Grazie a tutti. Non è la stessa cosa, in alcune organizzazioni è avere una gomma e sappia e poi una... Però, visto che il Presidente del Consiglio dice che sono qui per ascoltare, allora direi che iniziamo le danze. In questo momento di campagna elettorale sembra che le iniziative siano tutte spot. No, no, ma in generale, gli 80 euro non sono iniziativa ma sono il tentativo di la scrittura... Tutto perde un po' di orizzonte, di spessore e di profondità. Inviterei a viverlo con serenità, tra una settimana è finita e c'è la possibilità di tornare a inserire questo tassello in un ragionamento più ampio, di cui non vi parlo perché altrimenti corre il rischio di sembrare campagna elettorale. Ma vorrei che fosse chiaro che sta roba qua non è un tributo alla nostra riunione fatta o all'esperienza da cui Gigi e Dio ed altri che hanno lavorato al testo provengono... Cioè non è un omaggio, non è l'atto di resa degli onori. Questo è un pezzo di costruzione di futuro che si unisce a un certo tipo, a una certa idea di società. Facciamo sta roba qua perché abbiamo una certa idea d'Italia. E la nostra idea d'Italia è a 360 gradi. E questo pezzo del terzo settore, detto il primo, è un elemento centrale. Lo dico senza avere modo, tempo e in questo caso neanche la volontà, rispetto innanzitutto a voi, di entrare nel merito di questa osservazione che è quella su cui in questo momento, ve lo confesso, sento più forte anche frevere in me la voglia di dire porca miseria mi piacerebbe tanto raccontare tutto il disegno. È un pezzo della cornice del puzzle, ma è il disegno, quello di cui in queste ore non si sta parlando. E noi lo parleremo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.